Intanto la Juventus in aria di rigore, lo scambio, la conclusione, poi la porta è vuota, la rete! Ha segnato la Juventus Under 23 che ribalta il punteggio e chi? Se no, Anza Raffia, il migliore in campo fino a questo momento del... Non è dello stesso avviso del signor Paterna, e allora il filtrante per Marchi, palla a cercare Brunori, attenzione a Wesley!